allora vi ho chiesto di portare le tre fotografie del cuore perché volevo un po' conoscervi anche meglio vabbè Sabrina so tutto e naturalmente farò solo quello che vi dici tu sto molto attenta a quello che dico signora Ferilli a parli che non c'è molto da dire no non c'è niente però insomma diciamo che proprio perché ti conosco io l'unica cosa ci sono delle fotografie